Mauro De Michelis, cosa serve in particolare per fare in modo che questa Unione dei Comuni abbiano il pieno sviluppo? Come sapete da un anno abbiamo costituito la nostra bellissima Unione dei Comuni Valmerola e Montarosio che comprende 5 comuni, 3 della provincia di Savona e 2 della provincia di Imperia. La legge regionale non recepisce questa situazione, almeno fino ad oggi non l'ha fatto. Noi abbiamo bisogno che la legge regionale adegui la propria normativa a quella nazionale considerando le Unioni dei Comuni innanzitutto e poi anche le Unioni dei Comuni a cavallo delle due province. Questo abbiamo chiesto alla Regione e questo parrebbe che la Regione voglia fare. Di questo ne diamo atto e ringraziamo.